Abbiamo fatto un bel giro via Costante Giraldengo, via Senato Grigento, via Geraldo Pisano e la RAP sinceramente si sta dando da fare tanto, però ci vuole continuità perché se non c'è questa continuità siamo di nuovo punte dal capo. Anche su questa situazione dell'immondizia ci sono gli incivili che passano, buttano gli ingombranti e vanno via. Ci sono stati tanti interventi dei vigili del fuoco in questi giorni perché l'immondizia si è accumulata e qualche incivile ha dato fuoco all'immondizia, non sapendo cosa fa, loro la prendono come gioco. Se vedo qualche persona che buttano degli ingombranti, magari di digli che non li devono gettare e ci sono dei punti di raccoglimento per gli ingombranti. Oltre a questo ci sono ingombranti pericolosi, come stiamo vedendo qui c'è amianto perciò l'amianto, vengono a posto, buttano l'amianto e scappano via.